Sicuramente venivamo da un periodo non di grandissima forma, soprattutto fisica, abbiamo avuto infortuni, abbiamo avuto un po' di problemini qua e là. Penso che si è visto anche con l'inconsistenza a tratti che abbiamo avuto in campo, è un po' un sintomo di quello che sono state un po' di sfortune, secondo me. Allo stesso tempo non dobbiamo lasciarci trascinare giù da questo andazzo. Sicuramente Trent è una squadra che ha fatto una buonissima partita, ha dimostrato comunque di essere una squadra super pericolosa, vincendo Varese, quindi dobbiamo stare super concentrati e attenti per portarla a casa noi, perché abbiamo bisogno assolutamente di questi due giorni. Rispetto al passato ho cambiato meno, nel senso che partire in un ruolo può ricambiare, invece quest'anno ancora non è così, non è successo, quindi per me sicuramente mi aiuta, perché comunque sono un giocatore che ha bisogno di giocare con i suoi compagni per essere efficace e mi crea una sorta di schemino di quello che posso fare con i vari compagni con cui sono in campo eccetera eccetera e non dovendo cambiare ogni volta questa cosa diventa sempre più consistente, più facile e automatica per me ed è il modo in cui riesco a descrivermi meglio, quindi sicuramente questo mi aiuta tanto, allo stesso tempo cerco di essere efficace in qualsiasi situazione mi trovo e sono consapevole del fatto che comunque adesso c'è bisogno di dare qualcosina in più.